buona giornata buona giornata a tutti gli ascoltatori di fano tv benvenuti e bentrovati alla rassegna stampa della nostra emittente oggi è mercoledì 12 aprile 2023 vediamo subito il santo del giorno è un santo molto vicino alla nostra epoca visse nella prima metà del secolo scorso è san giuseppe moscati eccolo qua nella foto questa è la foto reale di questo santo fu un grande medico nacque a benevento ma visse soprattutto a napoli si dedicò alla cura di tanti poveri nell'ospedale degli incurabili e poi gli andò a trovare addirittura nei quartieri più poveri della città non voleva compensi per la sua opera fu un grande medico ispirato aveva una capacità di colpire il male individuando la diagnosi precoce in modo che molti grazie alle sicure furono salvati morì a 47 anni il 12 aprile proprio come fosse la giornata di oggi nel 1927 san giuseppe moscati le previsioni del tempo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi con qualche nube in più nel pomeriggio sulla nostra regione i venti saranno al mattino tesi al pomeriggio moderati il mare quasi calmo le temperature oscillano dai 13 ai 22 gradi si sono notevolmente alzate rispetto ai rigori dei giorni scorsi 22 gradi e una temperatura primaverile ed ora diamo subito un'occhiata ai giornali a partire dal corriere adriatico l'apertura è dedicata all'esito delle indagini per quanto riguarda gli scontri che si sono verificati tra le due tifoserie nella partita tra l'alma juventus fano e la vigor senigallia gli scontri che si sono verificati a ponte metauro quasi fosse un agguato dicono oggi i giornali condotto dalla tifoseria locale nei confronti della tifoseria ospite scontri per fano vigor emessi otto d'aspo coinvolti cinque fanesi due iesini e un senigallese pugno duro del questore clemente sta divietati dai due ai cinque anni a coloro appunto che sono stati ritenuti colpevoli di queste violenze le indagini confermano l'aguato teso a ponte metauro i divieti di accedere sono stati emessi appunto dal questore raffaele clemente dopo le indagini condotte dal personale di fano del commissariato di fano guidato dal dirigente stefano seretti cui hanno collaborato anche i colleghi in servizio agli esi e senigallia la magistratura ora valuta l'obbligo di firma durante le partite delle rispettive squadre quindi i daspo vuol dire che non possono più frequentare gli stadi per due o cinque anni quindi un provvedimento molto severo preso nei confronti di questi tifosi violenti e ieri è stato presentato dalla provincia al comune di fano e anche al personale agli studenti dell'istituto nolfi il progetto per la riedificazione dell'istituto considerato ora inagibile ex carducci ecco qua il titolo ex carducci il progetto piace a tutto il nolfi il preside giombi ha dato alcuni consigli i lavori saranno da assegnare entro l'anno l'incontro è stato senz'altro utile l'aveva preannunciato anche il presidente della provincia giuseppe paolini che ieri con il dirigente bartoli è stato presente è stato presente a questo incontro l'incontro è stato senz'altro utile ha detto poi alla fine dello stesso il preside il dirigente samuele giombi il progetto è stato apprezzato da tutti i presenti tra i quali i rappresentanti dei genitori degli studenti e dei lavoratori della scuola quindi ora si aspetta che tutto proceda celermente vediamo qual è l'iter burocratico che rimane ancora da percorrere entro due mesi sarà pronto il progetto esecutivo hanno detto e poi il bando è atteso per la prossima estate il bando per la concessione dei lavori e si prevede che i lavori siano aggiudicati entro la fine dell'anno insomma il bando viene pubblicato entro l'estate poi ci sarà i tempi per raccogliere le proposte delle ditte sono proposte a carattere nazionale e anche oltre quindi ci saranno diversi progetti diverse ditte che vorranno il progetto c'è già che vorranno appunto eseguire questo grande complesso che è uno degli interventi che poi eseguiranno anche altri per qualificare tutto il campus e c'è anche un articolo sul corriere adriatico che riprende in esame la situazione del parcheggio camper di viale ruggeri fa chiarezza su quello che il parcheggio può fare o non può fare il comandante della polizia locale Anarita Montagna ebbene Anarita Montagna ha detto che il parcheggio gode di tutte le autorizzazioni in modo particolare è stata una delibera approvata dalla giunta il 6 aprile scorso che consente a tutti i privati che hanno delle aree disponibili sul lungomare tra Fosso Segliore a Ponte Sasso di poterle utilizzare come parcheggi anche come parcheggi a pagamento e questo perché l'amministrazione comunale non ha aree sufficienti da adebire alla sosta degli autoveicoli in base alle esigenze che la stagione estiva, la buona stagione da primavera e all'autunno, questo comporta e quindi ricorre all'ausilio dei privati e queste aree sono disponibili ai camper, alle auto, i camper possono ovviamente rimanere parcheggiati fin quanto vogliono, comprese la notte, non hanno l'obbligo di stare 48 ore, non hanno l'obbligo di stare nella segnaletica perché molte aree non hanno segnaletica e quindi il proprietario è libero di mantenere questo rapporto come vuole. L'unico divieto è quello di non permettere che si faccia campeggio e non fare il campeggio significa non ancorare i camper con i piedini sul terreno, non esporre sedie, tavoli, stenditoi o cose del genere. In questo caso è possibile che si facciano delle multe e finora di multe non se ne sono state fatte, nonostante che i controlli ci siano stati il 6 aprile è una data molto recente, da 6 aprile ad oggi i poliziotti sono intervenuti due volte e non hanno riscontrato irregolarità. Questo è quanto ha detto la comandante della polizia locale di Fano. E ieri è stata presentata la seconda edizione della Festa del Cavolo di Metauriglia Soldato, prigioniero e migrante, gioventù rubata. Si tratta dell'argomento di un libro che verrà presentato oggi alle 17.30 nella Mediateca Memo in Piazza Amiani, nella Biblioteca Montanari appunto di Piazza Amiani. È un libro scritto da Pia Miccoli, si tratta del titolo Gioventù rubata e si parla di tre vicende che hanno interessato appunto questo quartiere, questa frazione che Metauriglia, una frazione che ora viene messa alla ribalta con la Festa del Cavolo di cui qui viene illustrato il programma. Giriamo la pagina, rimaniamo a Fano per riferire di una polemica tra gli ambientalisti e i residenti di Sant'Orso per la realizzazione di un campo agrivoltaico che suscita polemiche. A difendere le tesi dei residenti di Sant'Orso e Forza Italia, da una parte gli ambientalisti premano perché le risorse di carattere energetico compatibili, rinnovabili possano essere facilitate per la loro realizzazione, invece i residenti non la vogliono perché dicono che trasformare dei campi agricoli in questo modo si snatura il territorio e qui ci sono le due tesi messe a confronto. Le culture contro il fotovoltaico e polemica sull'ultimo progetto. L'autovelox è regolare secondo il sindaco di Cagli dopo le tesi opposte presentate dall'avvocato Luca Rodolfo Paolini, ex deputato della Lega. Autovelox regolare, sono stati evitati incidenti. Il sindaco di Cagli verifica la contestazione di Paolini sulla collocazione sbagliata. dice almeno un risultato l'abbiamo raggiunto. Sono stati evitati incidenti e poi le multe sono anche calate. Pensate, se ne facevano 300 al giorno, ora se ne fanno un centinaio. Dice, comunque un centinaio è sempre una cifra rilevante di multe, se si pensa che si fanno ogni giorno, insomma, ci sono molti comportamenti scorretti che ancora devono essere regolati e anche repressi perché lì è una zona molto molto pericolosa. Comunque dovrà essere il giudice di pace a dare ragione all'uno o all'altro, stabilire se quell'autovelox è irregolare e quindi deve essere tolto oppure può continuare a esercitare la sua funzione. Passiamo a Cantiano. Cantiano lamenta una insufficienza di, diciamo così, dipendenti del Comune per sbrigare tutte le pratiche straordinarie che sono derivate dall'alluvione che c'è stata appunto l'anno scorso. Uffici sguarniti, che Cantiano chiede aiuto, adesso sono a rischi i servizi e il bilancio. Il sindaco Piccini chiede al commissario personale di supporto o fondi per nuove collaborazioni. Non si riesce, una volta c'era l'ordinaria amministrazione a cui il personale dipendente riusciva a fare fronte, ora invece con tutte le inconvenienze burocratiche, poi sono molto molto laboriose, comportano l'acquisizione di molti atti di ricorsi, 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 ricorsi eccetera. Insomma non si riesce a stare dietro e poi il tempo passa mentre le esigenze della popolazione incombono perché i danni comportati, i danni procurati dall'alluvione sono stati veramente pesanti. Tiriamo ancora la pagina e vediamo Senigallia. Pronto soccorso, code e nervi tesi, insulti contro medici e infermieri. Il primario Marocchini dice chi aspetta non ha l'esatta percezione del lavoro che si sta facendo nelle sale. Spesso dopo una lunga attesa chi attende una prestazione al pronto soccorso dà inescandescenze e forse fa anche qualcosa di più aggredendo il personale. Ebbene una situazione di turbolenza si è verificata anche nel giorno di Pasqua nell'ospedale di Senigallia. C'è stato che dopo aver aspettato alquanto le cure di cui aveva bisogno ha cominciato a protestare e c'è stato anche un problema di ordine pubblico. Ponte di Pasqua in trincea per il personale del pronto soccorso, troppo spesso aggredito verbalmente dagli utenti che si arrabbiano per l'attesa ritenuta eccessiva. E qui abbiamo in quest'articolo il primario che prima di tutto invita alla ragionevolezza e poi spiega qual è la situazione che si svolge dietro la sala di attesa dove ferme l'attività degli infermieri e dei medici per curare chi ha veramente bisogno e soprattutto chi è più grave degli altri. Vediamo ancora altre notizie di Senigallia. Vuole soldi? La madre glieli nega, lui la riempie di botte. È stato arrestato. È finito in manette un giovane per maltrattamenti portato a Montacuto dopo l'intervento dei carabinieri, portato in carcere a Montacuto. Il ragazzo che ha una dipendenza da alcol e droga aveva chiesto denaro alla donna. La madre sapeva che lo avrebbe utilizzato per rovinarsi la vita, ancora di più rispetto a quanto non avesse fatto fino a quel momento. Ha quindi negato i soldi e richiesti dicendo oltretutto che non li aveva con sé in quel momento, ma il ragazzo ha reagito maltrattando appunto la mamma. Per fortuna è intervenuto qualcuno, ha cercato di ridurlo alla regione, sono stati poi chiamati i carabinieri che lo hanno arrestato e il magistrato di turno poi ha disposto il trasferimento in carcere a Montacuto. Veramente una situazione piuttosto squallida. In un altro articolo che riguarda sempre Senigallia si parla di una rissa in campo. Un diciassenne è stato aggredito per difendere la mamma di un suo amico. Si tratta di una partita di basket. Il cestista del Due Teams è corso ad aiutarla. La mamma che in quel momento stava in difficoltà, ma è stato picchiato dagli avversari. Scene da film allucinante. Pensate, è stato aggredito per proteggere una mamma con il figlioletto al seguito. Lei stava per essere accerchiata dai giocatori avversari. Lui è corso a difenderla, ma è stato colpito con un calcio nelle parti intime e quindi ha dovuto essere ricoverato al pronto soccorso. Veramente anche qui, dopo il Daspo che è stato combinato ai tifosi violenti a Fano, ora abbiamo un altro episodio brutto per quanto riguarda uno sport che non dovrebbe cadere in queste situazioni. In questo caso siamo nel basket. Giriamo il giornale, vediamo qualche notizia di Pesaro per quanto riguarda i lavori che si stanno facendo in città. Via Curiel sarà una serra, ci verranno tanti tanti alberi, tante verde, ma ci vuole anche un'accelerata. Il tempo ormai agli sgoccioli sulla carta, i lavori scadono tra mesi. Il Comune ha previsto oltre 40 super fioriere. Pensate che Rigoglio di Verde dovrà avere via Curiel. Eccola qui in questo momento come si trova via Curiel, ma poi abbiamo anche altri lavori che riguardano via Passeri e soprattutto il sagrato della bellissima chiesa di San Giovanni, che insieme alla chiesa di Sant'Agostino e il Duomo della città-Capoluogo costituiscono dei superbi monumenti storici e religiosi appunto della città. Rocca Costanza però è sporca, che brutta cartolina, così la definiscono Serena Boresta, che è coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia, e il consigliere locale Daniele Malandrino, che fotografano erba alta e rifiuti nel fossato. Vediamo qui appunto un elemento incongruo nel fossato di Rocca Costanza. Rocca Costanza sarà certamente uno dei monumenti più visitati il prossimo anno, quando turisti verranno da ogni parte d'Italia, forse anche dall'estero, per vedere la capitale nazionale della cultura. Ed ora passiamo all'arresto del Carlino. L'affondo di Puglisi scuote la politica. Marcheggiani e Busca ci mettono il carico. Ieri il resto del Carlino aveva aperto con una presa di posizione dell'ex onorevole, dell'ex parlamentare Puglisi, del Partito Democratico, che venendo a Fano aveva notato diverse cose problematiche, diverse cose che non vanno. E ora difendono invece la città l'ex assessore Stefano Marcheggiani e Tiziano Busca, che appartiene al Partito Socialista. L'ex assessore del Partito Democratico dice ora un candidato sindaco di rottura, il socialista, come non condividere le accuse? Ebbene, la condanna senza appello dell'operato del centro-sinistra da parte di Francesca Puglisi apre una nuova fase della politica cittadina in vista delle amministrative del 2024. Stefano Marcheggiani, già assessore alla cultura del Comune di Fano e ora consigliere comunale di azione, spesso critico nei confronti del suo partito, questa volta sembra difenderlo dalle accuse pesanti che la ex parlamentare, che fa parte del Partito Democratico, ha lanciato contro la sua forza politica. Insomma, c'è questa polemica, ovviamente ha destato sensazione tutto quanto aveva raccontato la Puglisi. Cose che si sanno in realtà, ma che questo personaggio venga a Fano e scopra come per dire l'acqua calda ha lasciato qualche perplessità. Venerdì l'ultimo saluto accesa, pista al poderino con il suo nome. L'ultimo saluto è il funerale che si svolgerà per il ragazzo che è morto nel corso di un incidente sul lavoro nei giorni scorsi nella zona industriale di Bellocchi. È un dolore tenuto in sospeso che cerca una sua valvola di sfugo, quello degli amici di Giacomo Cesaretti, l'operaio di 26 anni morto per essere stato schiacciato da un macchinario in movimento e sarà a lui intestato appunto il parco del poderino. Giriamo ancora la pagina. Anche il resto del Carlino parla del Daspo che è stato combinato a otto tifosi dopo la partita, anzi prima della partita, al Melio Ventus Fano Vigor Senigallia e quindi di questo abbiamo già parlato. Si ritiene che l'aggressione sia stata premeditata avvenuta appunto nel parcheggio di Ponte Metauro. Invece a proposito di Ponte Metauro dobbiamo dire che ieri Fano ha ritrovato la sua festa al ponte. Grande, grande la partecipazione di tante persone a questa festa tradizionale che era caduta un po' così in disuso, era stata un po' snobbata in questi ultimi anni ma ora grazie all'attivismo dei giovani che frequentano la parrocchia, grazie anche alla Pandolfaccia, grazie anche all'amministrazione comunale che ha voluto rivalutare questa iniziativa, questa festa, ieri c'è stata tantissima gente. Fano ha ritrovato la sua Pasqua lunga. Grande partecipazione ieri al santuario di Madonna Ponte e nella vicina pineta di Ponte Metauro per la tradizionale festa. L'assessore al turismo Etienne Lucarelli ha dichiarato collaboreremo con i ragazzi per far tornare questo appuntamento come era un tempo quando in città era mezza festa e in realtà un tempo addirittura i negozi chiudevano dopo l'una e quindi molta gente aveva così la possibilità, non si lavorava, insomma si andava tutti a festeggiare e a fare picnic nella pineta di Ponte Metauro con un pellegrinaggio verso la Madonna che allatta il bambino che è un quadro, un'immagine molto venerata appunto dai fanesi. Giriamo ancora la pagina, vediamo Urbino, l'Ateneo sistemi l'antincendio nei suoi collegi. Il presidente dell'ERDIS, Maura Magrini, sollecita un intervento. Noi abbiamo già investito quasi 6 milioni, ha dichiarato, ora tocca alla università. Per quanto riguarda il problema dei posti letto, e questo è un po' il problema principale per ospitare gli studenti, il nodo dei posti letto ne abbiamo persi 241 ma dal Ministero non ci rispondono sul ripristino, ha dichiarato Maura Magrini. E poi per quanto riguarda i pasti che vengono distribuiti, nel primo trimestre di quest'anno sono stati già 125 mila, 350 mila in tutte le marche, ovviamente perché l'ERDIS ha una competenza regionale per quanto riguarda gli studenti universitari. E per quanto riguarda invece la Val Cesano, Mondavio, Terre Roveresche e San Costanzo, dobbiamo registrare dei brutti episodi di cronaca. Si sono fatti vivi infatti i ladri, quattro i colpi segnalati. Pasqua in balia dei ladri, una banda di malviventi o più gruppi, probabilmente collegati, domenica scorsa ha tenuto sotto scacco il territorio tra le medievalli del Cesano e del Metauro, facendo irruzione proprio in pieno giorno in quattro diverse abitazioni a Cavallara di Mondavio, a Urciano, a Piagge e a Cerasa di San Costanzo. E nel caso di Cavallara il bottino è stato particolarmente ingente tra i 25 e i 30 mila euro, un danno veramente enorme, ma ancora più grande la devastazione e la rabbia che stanno provando le vittime. è incerto che quando poi si vede tutta la casa buttata all'aria, oltre al dispiacere per quello che è stato rubato, si nutre un senso di rabbia, di repulsione, di ribellione, per la devastazione che è stata fatta nelle cose più care, quelle di una abitazione, quella di un appartamento, di una camera da letto, di un salotto. E' veramente brutto e triste quanto sta avvenendo. Ed ora apriamo anche il Corriere Adriatico sulla pagina, scusate, il resto è calino, sulla pagina di Pesaro. Vediamo come l'obiettivo a Palazzo Almerici è quello di scongiurare la chiusura del museo. L'ente Olivieri interviene dopo la notizia che la biblioteca dovrà traslocare. Si parla di un capannone, abbiamo visto nei giorni scorsi, lavori né brevi né banali, ma faremmo di tutto per limitare i disagi. Questo è stato detto appunto dagli organi competenti. Giriamo la pagina e parliamo della famiglia Moneti. La famiglia Moneti allo stato attuale è giunta veramente alla fine di questo travagliato percorso che sta percorrendo. Ebbene, oggi o domani dovrebbe sloggiare dal proprio appartamento. Lo sfratto dovrebbe diventare esecutivo. In realtà non ci sono ancora alternative in vista per trovare una nuova abitazione. Il caso però è sotto i riflettori Moneti. Lo sfratto slitta, ma è questione di ore. Traballa l'ipotesi Loreto. Sesto ordine di sgombero domani proprio. Chiediamo un altro mese, hanno detto appunto i rappresentanti di questa famiglia, la proprietaria della nuova casa Tentenna. E c'è un grande clamore mediatico per questa situazione. E poi vediamo un aggiornamento per quanto riguarda il delitto di Via Gavelli. In aula il faccia a faccia tra il padre di Pierpaolo e l'amico che l'ha ucciso. Si sono incontrati per la prima volta nell'aula di tribunale Pietro Panzieri e Michael Alessandrini. Conferito l'incarico per la perizia psichiatrica, sei professionisti in campo. Non risulta che l'imputato dal carcere abbia chiesto perdono. Sarà una perizia psichiatrica a vagliare la capacità di intendere e di volere di questo imputato. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7, puntuale per la rassegna stampa del giorno dopo. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie.